Musica Sentiamo i titoli in primo piano in questa edizione del telegiornale. Nella Basilica di San Paterniano l'ultimo saluto a padre Damiano Angelelli, il frate Cappuccino umile e amato da tutti. Covid, 82 positivi nelle Marche, le zone a sud le più colpite, nella notte via libera, decreto con le nuove norme anticontagio, stretta sull'amo vida, limitazioni per gite, feste in casa e sport di contatto, i locali chiusi a mezzanotte. Soprattutto a livello nazionale perché ci sono alcune attività che magari lavorano dalle 11 fino alle 3 di notte. 39 anni investita da uno scooter mentre attraversa la strada in via della giustizia a Fano, soccorsa dal vicepresidente del consiglio comunale. Eliminare le maxi cartelletari e affidare servizio all'ASET e le richieste delle associazioni di categoria che puntano il dito contro il comune di Fano per la stangata della tassa sui rifiuti. L'Avvocato Matteo Giuliani subentra Marta Ruggeri in consiglio comunale dopo le dimissioni della grillina che da lunedì entrerà a Palazzo Raffaello, convocato ufficialmente alla prima seduta dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Al via i lavori all'ex campo dei militari, spogliatoi, parcheggi e restyling della tribuna per l'area utilizzata dai giovani calciatori del Fano Calcio. Tra poco in collegamento dalla cooperativa Tre Ponti per conoscere la nuova formazione dell'Alma Juventus Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia in apertura ai funerali di padre Damiano Angelelli, il frate cappuccino più longevo delle Marche, deceduto all'età di 101 anni. Umili, poveri, pazienti e pieni di gioia. Con la vicinanza di questi frati è difficile non innamorarsi del progetto francescano. Devo ringraziare il cielo per questa presenza. Sono le parole del Vescovo di Fano Armando Trasarti, che questa mattina ha ufficiato i funerali di padre Damiano Angelelli, il francescano più longevo della regione, che si è spento all'età di 101 anni, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Trasarti ha voluto riprendere la testimonianza e il significato della lettera ai filippesi, perdere tutto per guadagnare Cristo e diventare a Lui conforme. Decine, i fedeli, i sacerdoti e i frati cappuccini che hanno voluto dare a padre Damiano l'ultimo saluto terreno nella Basilica di San Paterniano. Presenti anche il sindaco Massimo Seri e Cristiana Nardi, assessore del comune di Cingoli, città nativa del Francescano. Conosciuto e amato da tanti fanesi, arrivò in città nel 1946, presso al servizio come custode del cimitero centrale fino all'84 e come cappellano per 70 anni fino al 2016. Poi, come ha raccontato il ministro provinciale, fra Sergio Lorenzini, nel giugno scorso aveva deciso di trasferirsi nella comunità dei frati cappuccini di Macerata, perché qua stava soffrendo a causa della pandemia, non poteva più incontrare le persone, non poteva confessare o semplicemente regalare un sorriso e parole di conforto. Eppure, fino all'ultimo e con grande lucidità di mente e di spirito, ha voluto donare qualcosa. Era un uomo accogliente e gentile con tutti. È stato veramente un frate che ha amato le persone e che credo ha fatto sperimentare nella sua persona l'accoglienza di Dio. Questa accoglienza davvero mite, umile, bella e sorvedente. Vorrei ringraziare padre Damiano per la sua testimonianza, ha proseguito Lorenzini, perché ci fa bene vedere un uomo, un frate, capace di far trasparire la bellezza, la dolcezza e la bontà di Dio. Io sono stato a trovarlo pochi giorni prima della sua morte, visitandolo lì a Macerata, e l'ho trovato nello spirito di sempre, sempre questo spirito gioviale, allegro. Tant'è che mi disse, se padre provinciale non preoccuparti, perché fino alla morte ci arrivo sicuramente. E questo era l'uomo Damiano, questo tratto gentile, leggero e molto cordiale. Al termine del rito funebre, un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro. Padre Damiano è stato sepolto nel cimitero centrale. E una donna di 39 anni è stata investita da uno scooter guidato da un 38enne mentre attraversava la strada. È successo questa mattina, poco prima delle 9, in via della giustizia Fanno, all'altezza dell'incrocio con via Tomassoni via l'Italia. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa, guidata dal vicepresidente del Consiglio Comunale, Piero Valori, che stava transitando in quel momento con un altro paziente a bordo. Dopo i primi soccorsi, la donna è stata trasportata dal 118, allertato da un passante, all'ospedale Santa Croce. La 39enne era cosciente, non dovrebbe essere in gravi condizioni. La dinamica, invece, è ancora al vaglio degli agenti della pulizia locale di Fanno, che dovranno accertare anche se la signora stesse attraversando sulle strisce pedonali. E sono 82 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, su quasi 900 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi. 25 in provincia di Ancona, 18 in quella di Macerata, 10 nel Fermano, 21 in provincia di Ascoli Piceno e 5 in quella di Pesor Orbino, oltre a 3 fuori regione. Questi casi comprendono 24 contatti in ambiente domestico e 9 in quello della Movida, ma anche rientri dall'estero, contatti nei luoghi di lavoro e nell'ambiente scolastico. I ricoverati sono saliti da 55 a 66, mentre si registra un paziente in più nelle terapie intensiva. Ad oggi sono 3 a Ancona e 3 a San Benedetto del Tronto. E nella notte il Premier Conte ha firmato il decreto con le nuove norme anticontagio, che saranno valide dalla mezzanotte per i prossimi 30 giorni. Annunciata la stretta sulla Movida, le imitazioni per lo sport, le feste anche in casa e la riduzione per la quarantena a 10 giorni. Un provvedimento però che preoccupa bariste e ristoratori. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Angelica Panzieri. L'ultima vittima del virus sono i bar, pub e ristoranti. Il decreto firmato dal Premier Conte prevede la chiusura anticipata alle 24. Andiamo a sentire cosa ne pensano baristi e ristoratori. La stretta del Governo per contenere i contagi da Covid-19 si concentra soprattutto sulla vita sociale e nelle aree della Movida. Da ora le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite fino a mezzanotte. Se i locali non sono provvisti di servizi al tavolo dovranno chiudere obbligatoriamente alle 21. In sostanza, dalle 21 in poi, si potrà consumare soltanto se seduti al tavolo, dentro o fuori dal locale, purché a sedere, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di assembramento. Dalle 21 ovviamente dovremo stare un po' più attenti. Quando le persone stanno per alzarsi in piedi e bere un drink in piedi, li inviteremo a sedersi. E noi li serviremo con molto piacere. L'importante è che la gente non ha il terrore di uscire, perché se no si torna un po' indietro. Alle 11 ancora entra gente, 11 e mezza entra gente, quindi non avere tutte quelle entrate sarà comunque una discreta rimessa. Però in generale, già io adesso mi chiedo, chi vuole arrivare alle 10 e mezza, 11, è al pelo, bisogna dirgli, mangi e scappi. E soprattutto non ha senso per un ristorante. Poi magari i locali che fanno 50-100 persone fuori col bicchiere, senza mascherina, come è normale, come fanno, perché la gente non rispetta le regole, però ne dobbiamo pagare noi, che alla fine abbiamo la gente a sedere, la gente che entra, che esce, le mascherine. Quello che dobbiamo fare lo facciamo. E quindi o si prolungava solo per i ristoranti, fino a una chiusura che era la mezzaluna, una mezz'ora, un'ora ci sarebbe cambiato, ci faceva finire il nostro lavoro. Poi, chiaro, continuare a fare serata è tutto, se vogliono chiudere, che chiudano. È un decreto che non sta né in cielo né in terra, perché è un decreto che va affrontato a regione e non va affrontato a livello nazionale, perché i casi non sono uguali in tutta Italia, quindi secondo me è da cambiare. Sarà un'ammazzata proprio a livello nazionale, perché ci sono alcune attività che magari lavorano dalle 11 fino alle 3 di notte. Vedrete qualcuno che staziona col drink davanti al locale, sarete costretti a mandarli via, questo lo sapete? Sì, sì, noi questo lo sappiamo, quindi bisogna stare molto attenti. Sicuramente per i ragazzi e per i bar che hanno l'attività dopo una certa ora, sicuramente è una grande delusione. Quel doppio turno, che adesso sei quasi costretto a dare degli orari alla gente, quindi sicuramente si risentirà sta cosa. E adesso torniamo a parlare delle maxicartelle dell'Atari, arrivate gli industriali di Fano, perché questa mattina l'amministrazione comunale ha incontrato le associazioni di categoria. Continua Fano il problema della stangata dell'Atari retroattiva, la tassa sui rifiuti. Oltreventi, infatti, sarebbero le industrie sul piede di guerra per le bollette inviate dagli uffici dell'Andreani Tributi, la concessionaria che ha svolto una serie di accertamenti, da cui sarebbero emerse irregolarità e metrature diverse da quelle rilevate anni fa. Aset, infatti, aveva perimetrato tutte le zone occupate dai macchinari, escludendo alcune superfici che invece ora vengono calcolate, ma secondo diversi imprenditori, in modo errato. Per questo, stamattina, le associazioni di categoria sono state accolte nella sala della Concordia del Comune di Fano per un confronto con l'amministrazione. Durante la riunione sono state avanzate critiche richieste. Per Luciano Cecchini, degli alberghi consorziati, non era questo il momento di inviare all'industria delle maxicartelle esattoriali. Con la crisi che abbiamo, strutture che pensano alcuni aprire, non aprire, avere delle cartelle da 4, 5, arrivano anche a 200 mila euro, io penso che non era il momento adatto trovare questa soluzione. Bisognava prima concertarci con noi, parlare e trovare una soluzione migliore. Le risposte del Comune sono state poco soddisfacenti, ci ha detto invece Andrea Giuliani di Oasi, confartigianato. L'amministrazione, ha aggiunto, è responsabile di quello che sta accadendo e non può nascondersi dietro all'affidataria. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione, quando scadrà il contratto con l'attuale affidataria, di riprendere in ausi il servizio o di affidarlo all'ASET. Abbiamo chiesto di eliminare tutte le cartelle esattoriali che sono state fatte con tutti gli arretrati di 5 anni e per il 2020 di discutere la maggiore superficie imponibile richiesta dall'attuale affidataria, discutere grazie anche all'intermediazione di una figura di garanzia. E questo insomma è quello che abbiamo chiesto per risolvere questo problema. L'attuale affidataria chiede 5 anni di arretrati con le sanzioni al 50%, riducibili al 30% per legge, ma comunque sono sempre delle cifre esorbitanti perché noi abbiamo delle imprese artigiane che debbono pagare 13.000 euro o anche 10.000 euro. Sono cifre esorbitanti, ha commentato Giuliani, e ora c'è il rischio che qualche impresa artigiana licenzi o riduca il personale per far fronte a queste spese. Valuteremo caso per caso, ha poi assicurato l'assessore ai tributi Sara Cucchiarini, presente insieme al collega Etienne Lucarelli e al sindaco Massimo Seri. Il percorso verrà fatto insieme ai rappresentanti delle associazioni per verificare eventuali anomalie. Ogni associazione di categoria farà una raccolta di quelle attività produttive che hanno la necessità appunto di fare un approfondimento maggiore con un accertamento con adesione che sospende i termini appunto di sospensione delle cartelle e dà la possibilità di un'analisi più dettagliata con l'ufficio Tributi del Comune e con la Andreane Tributi e le associazioni di categoria di ogni azienda. Ed è stato ufficialmente convocato dal Presidente uscente Antonio Mastro Vincenzo. Il primo consiglio regionale dell'undicesima legislatura si svolgerà ad Ancona dalle ore 10 lunedì prossimo 19 ottobre all'ordine del giorno della seduta all'elezione del nuovo governatore, il tredicesimo a partire dal 1970 e poi dell'intero ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. In apertura dei lavori la presidenza provvisoria sarà assunta dal consigliere che nella consultazione elettorale dello scorso settembre ha ottenuto il maggior numero di voti mentre i due più giovani d'età svolgeranno le funzioni di consiglieri segretari. Si procederà quindi all'elezione del nuovo Presidente dell'ufficio di presidenza, successivamente il governatore Acquaroli illustrerà il programma di governo e presenterà il nuovo esecutivo per garantire il distanziamento tra i consiglieri dove sono stati installati degli appositi divisori in plexiglass. E tra i banchi dell'opposizione ci sarà anche Marta Ruggeri che aveva rassegnato le dimissioni da consigliera comunale. A Fanno prenderà il suo posto l'avvocato Matteo Giuliani. Il servizio di Letizia Marchionni. Un momento importante per il gruppo fanese del Movimento 5 Stelle. Dopo le sue dimissioni presentate tramite una lettera aperta al sindaco, Marta Ruggeri, ora in regione, ha lasciato dallo scorso 2 ottobre un posto vuoto nel Consiglio Comunale tra le fila dei 5 Stelle. Dopo sei anni in cui aveva ricoperto il ruolo di consigliera, la Ruggeri passa l'incarico a Matteo Giuliani, quarto dei non eletti. Gli altri, dice Tommaso Mazzanti, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Fanno, hanno rinunciato al ruolo per motivi personali, dimostrando grande serietà e responsabilità. Sono comunque particolarmente contenta che il mio posto sarà preso dall'avvocato Matteo Giuliani. Se vi ricordate un anno e mezzo fa, quando sono stata candidata a sindaca per le elezioni amministrative di Fanno, avevo indicato proprio Matteo come assessore al bilancio ed è in quell'ambilotto che continuerà a portare il suo impegno e sono sicura che farà un ottimo lavoro in Commissione Bilancio e sarà anche membro della Commissione Garanzie e Controllo. Penso in particolare al tema della tassazione. Abbiamo in questi giorni tutti seguito la vicenda della Tari. Avevamo proposto già fin dal nostro programma una riduzione dell'imposizione fiscale delle tasse comunali, delle tariffe per tutte le nuove attività produttive. In questo momento, dopo la crisi del Covid, bisognerà ancora di più aiutare le nuove aziende per cercare di tutti insieme di superare le difficoltà. Quindi un primo impegno certamente sarà su questo. Avvocato e Presidente dell'Associazione Bene Comune, Giuliani andrà a completare il trio dei 5 Stelle nel Consiglio Comunale. Saremo come i tre moschettieri, affermano scherzosamente Francesco Panaroni e Tommaso Mazzanti. Siamo rimasti solamente in tre uomini in Consiglio Comunale, ma daremo battaglia sicuramente. Ma nel nostro gruppo comunque ci sono tante altre donne e potremo sempre contare sull'aiuto di Marta Ruggeri in Consiglio regionale e di Rossella Accotto in Parlamento. Per cui anche se siamo rimasti tre uomini a Fano, daremo dei fili da torcere sicuramente. Dopo la grande soddisfazione per l'elezione di Marta Ruggeri in Consiglio regionale, noi consiglieri, io insieme a Francesco Panaroni, insieme a Matteo Giuliani, ci ritroviamo privi di un punto di riferimento molto importante. Tuttavia in questo anno di Consigli insieme abbiamo imparato tanto, tanto altro ancora ovviamente avremo da imparare, ma sarà veramente un piacere raccogliere questa sfida ancora al servizio dei cittadini. Avremo al nostro fianco appunto Matteo Giuliani, un avvocato, un professionista stimato, presidente dell'Associazione Bene Comune. Quindi con Bene Comune un rapporto di collaborazione e sinergia che è in piedi ormai da più di dieci anni, dal 2009, e che continuerà con questo inserimento in Consiglio Comunale in maniera ancora più rafforzata ancora per altri almeno quattro anni. E adesso ci spostiamo all'ex campo dei militari, oggi utilizzato dal settore giovanile dell'Alma Juventus Fano, dove sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'area. Filippo Pucci. Proseguono i cantieri nel Comune di Fano. Nella giornata di ieri sono partiti infatti i lavori al campo dei militari lungo Viale Piccino, all'altezza del Cavalcaferrovia. Il campo, oggi campo sportivo, che ospita le squadre giovanili dell'Alma Juventus Fano per gli allenamenti e gli incontri, vedrà alcuni importanti lavori per l'ammodernamento dell'impianto. Quali sono nel dettaglio questi lavori? Nel dettaglio consiste nella realizzazione di un blocco spogliatoio che va a completare l'intero spogliatoio, in quanto attualmente ce ne sono tre, ma non sono regolari. Con il quarto, che ha una dimensione di 22 metri per 6,50, realizzeremo due nuovi spogliatoi per gli atleti, due spogliatoi per gli istruttori barra allenatori e i tre blocchi che sono esistenti, uno verrà destinato ad infermeria e gli altri due a magazzini, depositi, eccetera. E invece quali sono i costi? Il costo complessivo dell'intervento di progetto è 290.000 euro. La gara è stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese che è residente in provincia di Avellino e praticamente il costo complessivo è 179.000 euro. Quello che rimane poi verrà destinato a migliorare la tribuna piuttosto che la recinzione e altri lavori necessari nell'impianto sportivo. Ma oltre a questo i lavori prevedono anche la realizzazione di 40 parcheggi tra posti auto e motorini, una nuova illuminazione e la potatura delle piante. Questa mattina il vice sindaco Cristian Fanesi insieme ai tecnici del comune hanno effettuato un sopralluogo. È un progetto che abbiamo fatto come comune di Fano accedendo al finanziamento di sport e periferie. Quindi questo finanziamento è in parte coperto da quei contributi ed è una cosa importante perché quest'area che era una volta usata dai militari che appunto stavano alla caserma Paolini è stato ceduto al comune di Fano. Sono stati fatti dei lavori, non tantissimi da quella volta e adesso andiamo a renderlo disponibile per fare delle gare anche ufficiali. I lavori consisteranno appunto nel recuperare quello che già c'è, un spogliatoio nuovo ma anche a sistemare l'area quindi parzialmente la tribuna ma un parcheggio, la potatura delle piante anche l'eliminazione laddove è necessario con una nuova segnalettica quindi rendiamo più gradevole quest'area che comunque è utilizzata tantissimo dai giovani soprattutto e comunque dal mondo sportivo della città di Fano. Quindi siamo contenti perché si mette mano a effettivamente un campo che insomma segna l'età che ha e quindi andava a riqualificare. In occasione della partenza del Giro d'Italia prevista per domani a Porto Sant'Elpidio verranno anche, si svolgerà la premiazione degli Eroi per la Sicurezza riceverò un riconoscimento anche tre agenti della Polizia Stradale Marchigiana. Avevano rischiato la vita per bloccare e mettere in sicurezza un tir in autostrada guidato da un uomo ubriaco. Saranno tre gli agenti della Polizia Stradale che riceveranno il premio Eroi per la Sicurezza. Il riconoscimento verrà consegnato domani in occasione della partenza del Giro d'Italia a Porto Sant'Elpidio. I fatti che li riguardano risalgono al 16 luglio dello scorso anno quando alla sottosezione di Fano era arrivata la segnalazione di un auto articolato che procedeva a zigzag lungo l'autostrada. Il mezzo pesante stava sbandando e invadendo le tre corsie di marcia. Nel percorso aveva anche urtato la volta di una galleria procurando danni strutturali. L'intervento della Polstrada era stato particolarmente pericoloso sia per la pattuglia che aveva agito a traffico aperto sia per gli automobilisti che in quel momento percorrevano la 14. Riusciti a fermarlo non senza difficoltà, gli operatori avevano accertato che il conducente era in forte stato di ebrezza alcolica e per questo era stato denunciato all'autorità giudiziaria con il ritiro immediato della patente di guida oltre alla procedura per l'addebito dei danni causati. Il premio Eroi per la Sicurezza, che è giunto alla sua nona edizione, si affianca agli eventi collaterali che accompagnano la carovana. Si tratta di una iniziativa finalizzata a valorizzare l'operato degli agenti che si sono particolarmente distinti nelle attività di particolare rilievo o quelle di soccorso. Infatti la cerimonia ha l'intento di sottolineare l'impegno e la professionalità di tanti operatori della polizia stradale e della società autostradale che quotidianamente garantiscono la sicurezza degli utenti della strada anche mettendo a rischio la propria vita. E adesso cambiamo argomento. È stata presentata nel tardo pomeriggio di oggi la formazione dell'Alma Juventus Fan. Allora colleghiamoci con la cooperativa Tre Ponti dove c'è per noi Fabio Barniesi che vedo già in compagnia di un ospite insieme al direttore generale. Buonasera Fabio, come sta andando? Quali sono le novità? Sì Simona, un saluto qua dalla cooperativa Tre Ponti dove è finita da pochi minuti questa presentazione una presentazione del fano calcio della prima squadra, della Berretti e di tutto il settore giovanile. Devo dire che è stata una bellissima giornata piena di giovani, di ragazzi dove il fano calcio al Ma Juventus sta facendo dei progetti molto importanti. E proprio per questo motivo abbiamo qua il direttore generale Simone Bernardini a cui lascio la parola. Buonasera, innanzitutto grazie di essere stati con noi come membro di comunicazione. Ci tenevo a fare un saggio velocissimo sui nostri giovani. Oggi abbiamo visto sfilare 450 ragazzi, segno tangibile che l'Alma Juventus Fano che l'Alma Juventus Fano praticamente è una realtà sociale del territorio ed è per questo che invito un po' tutta la città a starci vicino perché credo che a livello numerico come settore giovanile siamo senza ombra di dubbio il più importante delle marche e non solo, ci abbiamo dei convocati in nazionale abbiamo fatto tante cose positive, due esordi l'anno scorso di giovani della nostra Beretti che da oggi si chiama Primavera 3 perché Ghirelli ha annunciato che il nostro campionato Beretti si è trasformato in Primavera 3 quindi invito la città, la tifoseria a starci vicino soprattutto l'imprenditoria locale perché abbiamo bisogno di investimenti perché sei squadre che girano tutta l'Italia per conto dell'Alma credo sia una cosa positiva per tutto il territorio quindi vi ringrazio a voi che evidenziate questo speriamo di fare un grande campionato e di dare sollievo e felicità a tutti i fanesi grazie Simone Bernardini, direttore sportivo abbiamo fatto alcune interviste pochi minuti fa che vi prego di mandare in onda e da qua è tutto, grazie un'emozione grandissima per me essere finalmente qui alla presentazione ufficiale a tutta la cittadinanza della squadra al completo anche se abbiamo già iniziato da quattro match essere attivi sul campo però questo mettersi a disposizione della cittadinanza, del territorio è un qualcosa che aspettavamo da tempo siamo veramente felici, orgogliosi con grande voglia di fare penso che già sia stata denotata soprattutto sul campo con i nostri ragazzi che hanno già dato del filo da torcere a delle squadre che saranno sicuramente delle corrazzate in questo campionato e nulla, siamo qui con grande voglia non possiamo dimenticare che in queste quattro partite i nostri ragazzi hanno veramente espresso un gran gioco guidati in maniera perfetta dal nostro mister Alessandrini i ragazzi stanno lavorando dal 19 di agosto continuativamente con grande lena, grande voglia e vedrete che ci toglieremo delle soddisfazioni sappiamo che sarà una stagione difficilissima ma non soltanto a livello tecnico ma a livello anche di Covid con tutte queste restrizioni non poter giocare in casa con i propri tifosi la cosa più brutta che ci sia per lo sport ma soprattutto per il calcio è chiaro che inizia una programmazione una programmazione che ci porterà nell'arco dei 3-5 anni di poter puntare a qualcosina in più di una salvezza tranquilla quest'anno, ripeto, per le situazioni che appunto dicevo prima dobbiamo fare un pochino di necessità virtù nonostante questo il presidente Offidani ha voluto allestire una buona squadra che potesse arrivare una salvezza tranquilla vediamo l'assestamento dopo 7-8 partite poi eventualmente nel caso dovesse mancare qualcosa sicuramente al mercato di gennaio sperando di doma se dovesse accadere di rinforzare o di perfezionare la squadra che già secondo noi è buona e ottima e lo sta dimostrando in queste prime partite abbiamo forse perso qualche punto per strada abbiamo dimostrato che il gioco l'abbiamo condotto sempre noi questo non basta abbiamo visto e abbiamo parlato con i ragazzi il mister lo ricordo ogni giorno non basta giocare bene ci vuole cattiveria, determinazione e noi dobbiamo mettercela perché dobbiamo far sì che tutte le belle prestazioni che stiamo facendo culminino anche con qualche partita da tre punti perché per noi è importante e proseguono a fano gli stati generali del turismo domani mattina in Sala Verdi si darà spazio al mondo del ricettivo albergatori, ristoratori e operatori potranno esprimere un parere e raccontare la stagione appena trascorsa voce e protagonisti anche al pomeriggio interverranno le imprese e le associazioni culturali giovedì invece l'evento sarà dedicato ai sindaci delle due vallate l'obiettivo finale sarà quello di fornire a Joseph Iar esperto di fama internazionale nuovi punti di vista e spunti che verranno utilizzati per realizzare un percorso strategico per inserire al meglio la città di Fano nel nuovo mercato turistico i dati serviranno anche per i progetti portati avanti dal Comune per Maggiori Cultura che sta lavorando ad un aggregatore di eccellenza che metterà insieme tutte le peculiarità del territorio e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato all'inaugurazione della pista ciclopedonale che collega Piano Marina a Marotta io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa arrivederci